Sono accusati a vario titolo di detenzione, spaccioli, stupefacenti e tentata estorsione. I carabinieri della compagnia di Monza, con il supporto dei colleghi del reparto operativo, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP di Monza nei confronti di 11 persone. Sette sono finite in carcere, quattro ai domiciliari, perquisite altre sei persone indagate a piede libero. L'indagine è scattata nel marzo del 2021 nel mirino degli investigatori tra i diversi gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di importanti quantitativi di droga, cocaina, marijuana e hashish. Tutto è partito dall'arresto in flagranza di un pusher di Monza appartenente a un giro di spacciatori attivo nei quartieri di San Rocco e San Fruttuoso per allargarsi ai fornitori dei monzesi, ovvero un gruppo operativo, nelle province di Milano e Pavia, responsabile anche di un tentativo di estorsione nei confronti di un cliente per un debito di droga di 3.000 euro. A sua volta la banda si riforniva da un sodalizio con maggiori ramificazioni, operante nel milanese, specializzato nella vendita all'ingrosso e al menuto di cocaina. Le comunicazioni avvenivano con l'applicazione SureSpot, ritenuta più sicura. Nel corso dell'attività è stato tratto in arresto un corriere, mentre consegnava 35 chili di marijuana. È individuato un deposito nel milanese, dove erano nascosti 25 chili di marijuana, sette di hashish e due di cocaina, sequestrati preventivamente beni agli indagati ai fini della confisca, per un valore di 115.000 euro.